Domenica 13 maggio torna la festa della mamma e puntuale da 28 anni nelle piazze italiane torna la zalea dell'AIRC. 15 euro per una pianta simbolo della ricerca per la lotta al cancro, una donazione indispensabile per finanziare gli studi dei nostri ricercatori. In soli 30 anni la guaribilità media dei tumori è più che raddoppiata e per alcune forme, soprattutto per i tumori al seno, i tassi di guarigione sono saliti all'80%. Ma ciò che fa la differenza e che rappresenta la grande conquista della ricerca è l'aumento delle diagnosi precoci, le uniche che consentono interventi curativi e tempestivi. A rendere il cancro una malattia sempre più curabile concorrono da una parte l'ingegno e la passione dei nostri ricercatori e dall'altra l'impegno di tutti coloro che credono nell'operato della ricerca e che non smettono di sostenerla. La prevenzione nella lotta ai tumori è fondamentale attraverso una corretta alimentazione e un corretto stile di vita, dicono i ricercatori del Consorzio Mario Negri Sud e di Santa Merimbaro, impegnati nella ricerca farmacologica. Nuovi farmaci attualmente in sperimentazione clinica o già disponibili, dice il Tg Max Cristiano Simone, capo laboratorio di espressione genica e trasduzione del segnale, potranno in futuro diventare utili presidi terapeutici per il trattamento dei pazienti neoplastici. Per noi è stato fondamentale il finanziamento AIRC. Infatti già nel 2007 abbiamo avuto un finanziamento AIRC che ci ha permesso di fare delle scoperte importanti per quanto riguarda il cancro del colon, ma soprattutto è stato fondamentale avere il rinnovo di quel finanziamento che ci ha permesso proprio in questi giorni di poter pubblicare un nuovo lavoro andando a trovare un secondo attore per quanto riguarda il cancro del colon che, se inibito, porta a una notevole riduzione per quello che riguarda i tumori per i clinici. Questo tipo di tumore che fascia di età colpisce? Il tumore del colon può colpire purtroppo tutte le fasce di età. Sicuramente dopo i 50 anni l'incidenza aumenta tantissimo per quello che sono le forme sporadiche. Per quanto riguarda le forme invece eredofamiliari, già prima dei 50 anni si può incorrere nella malattia. La ricerca che cosa suggerisce per fare meglio prevenzione? Per fare meglio prevenzione sicuramente la dieta è un fattore molto importante perché si è visto che c'è una forte associazione con tutte le diete sregolate, sia un eccesso di carne rossa, sia un eccesso di zuccheri, sia un ridotto apporto di fibre alimentari e di frutta e verdura. In un momento in cui la crisi economica e le scelte programmatiche delle istituzioni pongono in serio pericolo la possibilità di fare ricerca in Italia, l'idea di sensibilizzare i cittadini di domani all'importanza della ricerca scientifica è un impegno di AIRC in cui i ricercatori credono molto, sperando possa portare i suoi frutti nei prossimi decenni.